Si è tenuta presso il liceo statale di Ischia Giorgio Buchner la decima edizione della notte del liceo classico che quest'anno ha avuto come argomento la comunicazione e da cui hanno preso parte gli studenti di tutti gli indirizzi è stata una notte ricca di cultura e per ben sei ore in ogni aula si sono tenuti eventi rappresentazioni teatrali concerti mostre fotografiche degustazioni ispirate al mondo antico conferenze dibattiti presentazioni libri e letture di poesie il tutto attorniato da una straordinaria cornice di pubblico infatti il liceo ischitano è stato letteralmente preso d'assalto da centinaia e centinaia di genitori che hanno assistito con grande interesse alle performance messe in essere dagli studenti tra le tante rappresentazioni che hanno caratterizzato questa edizione spiccano sicuramente quelle ambientate in epoca romana e quella relativa all'omicidio ad opera del regime fascista di giacomo matteotti di cui tra l'altro è stato riprodotto l'ultimo discorso che il deputato socialista tenne alla camera dei deputati in cui denunciava i brogli fatti nelle elezioni dell'aprile 1924 in cui denunciava i brogli fatti nelle elezioni dell'aprile 1924 in cui denunciava i brogli fatti nelle elezioni dell'aprile 1924 in cui denunciava i brogli fatti nelle elezioni dell'aprile 1924